Ecco, Roberto Seppi per 28 anni è stato direttore dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano ed è spesso ricordato per aver dato il via a una bellissima esperienza, i mercatini di Natale di Bolzano che quest'anno compiono 30 anni, ma come sono nati? Beh, innanzitutto era il mio desiderio di realizzare questa iniziativa, io ero molto giovane sono stato così buttato in vasca, come si vuol dire, come direttore dell'APT di Bolzano e il mio consiglio di amministrazione mi ha detto ma tu cosa vuoi fare come direttore, qual è il tuo obiettivo che vuoi raggiungere e fra gli obiettivi che ho citato ho detto vorrei organizzare a Bolzano il primo mercatino di Natale d'Italia e questi qua mi hanno guardato e soprattutto la parte alberghiera mi hanno detto ma guarda se tu vuoi organizzare il mercatino di Natale in dicembre ricordati che il dicembre è per noi albergatori il mese delle cipolle, perché il mese? Perché gli albergatori piangevano perché hanno poco da fare insomma e normalmente il periodo di dicembre era utilizzato per fare la manutenzione ordinaria dei propri alberghi e questo e quest'altro e dice se mi arrivano tutte questa gente dove li mettiamo? E dico guarda che il cambiamento, i cambiamenti avvengono proprio con iniziative forti, ogni cambiamento nel turismo o lo fai forte o fai un botto forte e riesci a cambiare anche il sistema e quindi anche allungare la stagione oppure riempire la stagione in determinati punti dove naturalmente c'è il calo e questo lo puoi fare con iniziative e eventi forti. Ecco, mi sono ispirato a Norimberga che è il più antico mercatino di Natale d'Europa, già allora erano gli anni 1987-88, già allora avevano 3 milioni di visitatori e quando il mio collega di Norimberga dal quale mi sono rivolto mi ha dato lo studio che loro hanno fatto per così dare un nuovo maquilas al proprio mercatino, erano tre tomi di questo genere quindi proprio una cosa molto complessa. Io me lo siamo portati a casa, ho cominciato a leggere e ho detto ma un mercatino così difficilmente riusciremo a fare, però a piccoli passi lo faremo e quindi siamo riusciti nel 90 così a realizzare questo primo mercatino e mi sono sentito tutte le responsabilità ad osso ma soprattutto quello che ho voluto fare fin dall'inizio era quello di coinvolgere molto tutta la popolazione locale ma soprattutto far sì che le tradizioni locali venissero rappresentate al mercatino. Quindi non solo oggetti di artigianato ma anche tutte quelle che potevano essere gli aspetti legati alla cultura natalizia, a come si preparavano, come i bambini venivano preparati a suo tempo durante il periodo dell'Avvento perché il mercatino dura quattro settimane e quindi c'è tutto un percorso anche culturale che viene coinvolto. Ecco allora che anche la popolazione c'è tutto un sistema di artigianato, cultura, tradizione, musica e atmosfera. L'atmosfera è un qualcosa di importantissimo per il mercatino perché solo attraverso un'atmosfera calda e molto diciamo così tipica natalizia si può conquistare l'ospite.